La grande nonna quercia degli Oppiazzi gode di ottima salute. A decretarlo è l'analisi redatta da Pier Giorgio Barbieri, arboricoltore esperto, che insieme al suo team ha dato vita alla potatura dei rami secchi e alla messa in sicurezza dell'albero secolare di Castelvetro Piacentino. C'è stata fatta una rimonda del seccume grosso. Precedentemente il signor Boselli, che era stato istruito, ha dato acqua alla quercia perché è sicuramente un pochettino assetata. e contemporaneamente abbiamo sostituito i cavi che erano invecchiati ai logori e abbiamo ricercato i dendromicorhabitat, che sono gli insetti e i funghi afferenti alla pianta. La farne è oggetto di interesse anche da parte di chi studia la biodiversità ed è un presidio importante per conoscere le varietà presenti in questa area geografica. Un albero più è grande e più ospita una biodiversità maggiore, e quindi per questo è importante poter preservare e conservare questo albero importantissimo e meraviglioso. Proprio per le sue preziose caratteristiche è stata inoltrata la richiesta di inserire la pianta secolare tra gli alberi monumentali della regione. Ho presentato in comune la richiesta, il comune l'ha bypassata alla regione, che si è inoccuperata tramite il suo ufficio competente. Speriamo che più presto mandino un tecnico per poi iscriverla nel registro degli alberi monumentali della regione, almeno se non d'Italia. I cambiamenti climatici e la sua età impongono attenzioni particolari che i custodi della pianta, simbolo di una battaglia a favore dell'ambiente, intendono tramandare anche alle generazioni future e a chi ama questo territorio. Per noi non la quercia è un componente della famiglia, è in famiglia da centinaia d'anni, noi siamo i custodi attuali, ma stiamo già istruendo i nostri nipotini affinché proseguano un domani nella custodia della quercia. Il comitato che ha promosso 15 anni fa la battaglia ambientalista assicura che sono in programma nuove attività per promuovere l'amore per la natura. La volontà è sicuramente quella di continuare a fare vivere questo posto, questo luogo e soprattutto la nostra grande quercia.